Io non ho, ho un grosso rimorso, non sono ancora andato a trovare la Pia che è ricoverata la Sacra Famiglia. Ecco, a me piacerebbe una cosa, che quelli che mi sentano rivolgessero un pensiero alla Pia. Perché se è vero che c'è la telepatia, io credo che se tutti facciamo un pensiero per la Pia, la Pia indirettamente sente che qualcuno l'ha pensata. Se la pensiamo in massa la balacca la taratella. Allora prometto che andrò a trovarla. Veniamo al problema finalmente anche a deriva, perché siccome le trasmissioni vengono da Arco, molte volte abbiamo parlato anche solo di Arco, di problemi politici. Ma una cosa che mi ha così lasciato perplesso è l'area Catoi. È da anni che passo davanti all'area Catoi e dico che c'è esso. E poi mi consolo, perché diciamo che c'è l'arco che è il clero, la scuola elementare, l'oratorio, il poligono, l'ex asilo, qui si sana e qui si crepa se può dire che qui si sana. Dio, meno male che anche a riva c'è qualcosa che non funziona. Perché passando a vedere giù tutte le macchine, un disordine, mi rallegravo, mi rallegravo. Perché anche ai cugini di arriva Iga di Sorogna. Un bel giorno capita che dei signori, ma qui all'area Catoi si poteva fare questa, si poteva fare quell'altra, belle idee, e lo prendono e decidono di fare qualcosa. Invece che, invece che, fargli il monumento al signor Heinz Peter Hager. Si pronuncia così? Heinz Peter Hager. Questo signore invece che dire, grazie, guardi, finalmente le venivano a risolvere un incesto che chi le eravava una roba che prima gara della costruzione, poi battete la costruzione, poi gara della costruzione, mezza battuta, dopo gara del parco macchine, poi gara del parco macchine. Insomma, abbiate pazienza. Chi andava ad abitare l'hotel Luise non è che avesse sotto un bellissimo panorama. E allora ho detto, ah no, il signor Peter Hager, come si chiama di Hager, ha fatto un errore, caro signore, ha fatto un errore perché quello spirito comunistoide che c'è sotto anche in quelli di destra salta fuori, pochi gli ambientalisti, pochi i Verdi, pochi i monumenti del 5 Stelle e tutti quanti. Per cui il fatto che Heinz Peter Hager abbia preso l'area Cattoy non va bene. Allora la senti lì tu come che lei ha. Allora, cari cittadini, bisogna che noi ci abituiamo anche a pensare che se le genti fanno delle operazioni, ma lo fai tutti per tagliarsi i testicoli? Amico, ho l'impressione, ho una strana sensazione, che c'è un detto, c'è un detto, ah, se batta via i testicoli per far gendispetta alla sposa. No, non vorrei che questo detto incominciassi a prendere un po' più di, com'è che posso dire, di consistenza. Perché il fa la TAV, non va bene. Il fa la contro TAV, non va bene. Il volpare il gasdotto che fa attraversa e ha buttato gli olivi, non va bene. Però se manca il gas, non va bene. Se non c'è la luce, non va bene. Allora, qui, cari ragazzi, bisogna che facciamo una... vogliamo l'area Catoi cesso come che l'era o la sistemiamo? Siccome il comune, ormai sappiamo tutti, che non hanno i soldi per fare queste cose, perché l'ente pubblico ormai è detto da tutti, da sinistra e da destra, che deve fare l'ente pubblico per determinate cose e non per altre cose, arriva il privato che va a fare qualcosa, fermi, no. Perché farà la casa più alta, perché metterà tre piante che non va bene, perché metterà le palme invece che metterà gli olivi, o perché metterà i albicocchi o le arance, eccetera. Non funziona ragazzi, non funziona, perché se no io guardate, mi spiace sapete, ma insomma è un pensiero al Benito qualche volta che il fa, eh ragazzi, mi spiace. Ma siccome il Benito non è più di moda, potremmo pensare all'avvento di una bella Corea del Nord, dove uno dice, aria cattò, se fa quella roba lì, non va bene? Che metterà via la testa. Io non voglio arrivare a questo, ma mi sembrerebbe logico pensare anche in positivo, ma è possibile che questo Heinz, Peter, com'è che si chiama, Hager, l'abbia detto, ma guardi, compro l'aria cattò e adesso arriva, perché mi antipatisi, non si avrei detto, ti si dà delle arie, perché gli è dei blogger, porca Eva, adesso che fa una cosa che guarda i serpentirà per tutta la vita. E poi siccome ho 5 milioni di euro da investire, vado, li butto lì e poi mi faccio un dispetto di come fare la sposa, ecco, ma volete che il Hager e il fare rispetto alla sposa si è batta via? Io non credo, penso che queste persone che faranno i loro affari, ma è evidente che uno che fa un investimento lo fa perché gli frutta qualcosa, ma siete diventati tutti cretini qua. La questione è che chi amministra i soldi pubblici li amministra col criterio che sia i soldi tanto i quei dell'altro e non pensa che sono i soldi dei contribuenti che sono i soldi del Gallas, del Parisi e anche del Tamanini. Quindi, se arriva uno che investe, io credo che a questa persona si possano fare anche delle critiche e dire, guarda, forse se anziché 500, non so dirti cosa che lei fa qualcosa di meno, va bene. Ma chi, cari signori, li farà la fine dell'Arcese a Cagli, e lei siccome è l'Arcese, l'è nassù, l'è nassotto, l'è nassotto, l'è nassora, tutte le scuse le vuole, io però credo che qualche volta anche coloro i quali sono verdi, rossi, zaldi, ambientalisti, qualche volta farebbero bene a pensare che, insomma, non tutti investono per fare dispetto e che non tutti investono per fare squallide speculazioni, ma che c'è anche della gente che investe per il bene della comunità.